Bella signorina alle 7 di mattina lungo il mare insieme a me, oh no! Dolce segretaria sulla spiaggia di Bellaria, beve un tè insieme a me, oh no! Occonorvegesi più 14 tedeschi che si picchiano per me, oh no! Volo a Stoccolma, terra divini, così l'Europa si riunisce, qui, oh no! Oh, terra d'amor, c'è la regione dove si si bagna, con i santovesi e con le fette di paese, e le pensioni, i Grand Hotel, Romagna, vengono tutte qui, tranne l'Iglesi perché vanno in Spagna, vengono da Paese e da Mettropoli, e fa l'amore sotto i soldi, la Romagna! Chi umi di persone, con piadine e scoperone, ci sarà il suo perché, oh no! Ma anche le tagliatelle con l'aggiunta dei piselli, ci ha il suo un bel perché, oh no! Io non sono bello, ma tutto interessante, perché ti ho il suo perché, oh no! Venite da me, ci vediamo e ridimi, così l'Europa si riunisce, qui, oh no! Oh, terra d'amor, c'è la regione dove si si bagna, con i santovesi e con le fette di paese, le pensioni, i Grand Hotel, Romagna, e vengono tutte qui, tranne l'Iglesi perché vanno in Spagna, e vengono da Paese e da Mettropoli, e fa l'amore sotto i soldi, la Romagna, con i santovesi e con le fette di paese, le pensioni, e vengono da Paese e da Mettropoli, e fa l'amore sotto i soldi, la Romagna, e vengono da Paese e da Mettropoli, e fa l'amore sotto i soldi, la Romagna, e vengono da Paese e da Mettropoli, e fa l'amore sotto i soldi, la Romagna, e vengono da Paese e da Mettropoli, e fa l'amore sotto i soldi, la Romagna, e vengono da Mettropoli, vai, un applauso, vengono da Mettropoli, il fatto che vai, tutto il paviglione, è quello che sta da memoria, la potete scaricare in Tune, Spotify, dappertutto, in vaso ormai tutte le piattaforme, trasmessa anche da Luca Barbarosso, oggi erai tu e la Dava, se ti pensate in streaming da beccato? sulle mani così! Vai! 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 vai, 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 guarda! Curva su, la curva a notte! potresti anche ballare Maurizio, Maurizio, guarda, Maurizio! E' l'anna maria ricina, vengono così! è tedesca è di origine tedesca vai signori ancora sulle mani forza tre giorni così insieme qua ancora oh no via la romagna applauso signori vai oh no facciamo la cosa facciamolo a dire loro un bello no tutti insieme dai attenzione mi raccomando è un sistema questo di andare avanti oh no non lo so Maurizio Ferini per tre giorni è con noi quindi ci vedremo ancora vediamo domenica e poi rimanano quasi i giorni se volete il libro è di investimento domani se ne volete le conseguinte grazie a salute ciao ragazzi grazie grazie a loro che tengono viva la romagna grazie parliamo un amico in più anche chi ne viva la voglia di valerino grazie grazie mio debutto assoluto eh prima se lo faccio il mondo successo successo prima se lo detto Cesena detto Cesena prima volta in assoluto ciao grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti.